Buongiorno a tutti i partecipanti, sono Alice Confalonieri di FPA che oggi organizza questo webinar in collaborazione con ServiceNow, di cui saluto i rappresentanti che vedo collegati, Luca Zuini e Mario Noioso. Oggi parleremo di una piattaforma cloud intelligente e intuitiva per il lavoro ai tempi del Covid-19. Ora iniziamo col programma di oggi. Come vi dicevo parleremo di una piattaforma cloud intelligente che consente di pianificare e coordinare la ripresa delle attività, supportando così il ritorno in ufficio delle persone e garantendone ai giorni nostri l'indispensabile sicurezza. I relatore di oggi saranno Francesco Colasuonno, dirigente ufficio strategie digitali, architetture e sicurezza di INAIL, Luca Zuini, enterprise account executive di ServiceNow e Mario Noioso, senior solution consultant di ServiceNow. Ringrazio loro per la disponibilità e passo la parola al primo relatore. Francesco ti carico la presentazione e ti passo la parola. Grazie Alice, saluto tutti. Stamattina in sintesi vi racconterò un po' come l'INAIL sta reagendo e sta rispondendo all'emergenza sanitaria derivata dal Covid-19. Una brevissima permessa per contestualizzare. L'Italia è stata uno dei primi paesi che ha dovuto confrontarsi con la diffusione dell'epidemia. Ha dovuto inventarsi un modello di risposta senza avere dei parametri veri di confronto, anche perché l'esperienza cinese si basava su un modello di comportamento, un modello sociale ed economico molto lontano da quelli che sono le abitudini e i modelli dei paesi occidentali. Quindi le misure messe in atto dall'Italia sono state inventate quasi ex novo. Adesso sull'efficacia di queste misure non mi esprimo, c'è un dibattito politico anche molto acceso in atto e probabilmente gli esiti positivi o negativi delle misure in atto li potrebbero rilevare forse tra qualche tempo. Certo è che altri paesi del mondo occidentale stanno mutuando in toto in parte anche il modello messo in atto dall'Italia. Cosa sta facendo la pubblica amministrazione? Perché la pubblica amministrazione è un elemento, uno sondo fondamentale nel modello di reazione e ripresa. Questo è il titolo che ho dato a questo intervento. La pubblica amministrazione gioca un ruolo chiave e può essere l'elemento dirimente rispetto a un'efficacia risposta alla crisi. Intanto diciamo una cosa, non ci si improvvisa azienda di servizi digitali da un momento agliato. Se l'Inail è riuscita a fronteggiare in maniera tempestiva ed efficace questa situazione di emergenza è perché da almeno due treni, due piani trennali, noi scandiamo il tempo con piani trennali di innovazione IT, ha creato i presupposti per questo. I presupposti in termini di governance, soprattutto di governance dell'IT, di fusione, di connubio tra organizzazione e IT e su una serie di attività, di digitalizzazione dei processi, dei servizi, di semplificazione dei processi che oggi hanno consentito una risposta efficace nei termini che registriamo. Gli ambiti di risposta di Inail possono essere classificati in tre settori, in tre cluster, servizi, comunicazione e student. Nell'ambito servizi, in sintesi possiamo citare il percorso di telematizzazione dei servizi istituzionali su cui lavoriamo da anni. Un elemento ancora per cui rimane necessaria la presenza in luogo sono i servizi degli ambulatori, dei centri medico legali. Anche su questo ci sono dei margini, ne parlerò tra un attimo. Il ruolo fondamentale del contact center per i servizi forniti sul canale telefonico è di informazione a distanza. La service control room, che ormai da anni è un elemento fondamentale che noi abbiamo realizzato all'interno della direzione IT per avere un monitoraggio end-to-end dei servizi. Anche questo, si può dire, il sistema di IT service management che abbiamo adottato viene abilitato dalla piattaforma ServiceNow e ci consente di avere un tempo reale l'andamento della disponibilità della funzionalità dei servizi istituzionali. è fondamentale in questo momento in cui i servizi telematici, il canale telematico è il canale principale della direzione dei servizi. E poi dopo l'aspetto non affatto marginale, non ultimo, legato alla sicurezza. Nell'ambito della comunicazione, perché la comunicazione in questi momenti, in queste situazioni è fondamentale, abbiamo dedicato delle aree tematiche sul portale relativa all'emergenza sia per utenti esterni che per i dipendenti sull'intranet. Il canale telematico che avevamo predisposto in Risponde è stato uno dei canali più utilizzati in questa situazione. Cito soltanto tutte le disposizioni note tecniche e anche regolamentari che sono state pubblicate da l'INA per la tutela della salute del cittadino e del lavoratore. Sul fronte interno è stato fondamentale, si è rilevato un elemento vincente, quello di aver attivato dell'attività di adozione degli strumenti di smart working da parte del personale INAI, noi siamo circa 9 mila dipendenti, che non sono mai stati lasciati soli nell'utilizzo dello strumento digitale, della postazione digitale, ma sempre accompagnati dalla necessaria attività di accompagnamento e di adozione. Sul fronte dei servizi, c'è stato un percorso l'anno scorso di sperimentazione dello smart working che ha coinvolto qualche centinaia di persone, che non è stato improvvisato, è stato organizzato in termini sia di processo, sia di standard di riferimento, sia di tecnologie, che è un po' diverso, diciamo in questi giorni, queste settimane se ne sta parlando anche sui social network. Lo smart working è un po' diverso dal remote working. Smart working non significa lavorare da una postazione da casa e basta, significa organizzare lavoro per obiettivi, significa lavorare con strumenti di collaboration, cambiare la modalità di pensare il lavoro. Lo smart working è un cambiamento non completamente tecnologico, chi lo legge come un semplice cambiamento tecnologico è fuori strada perché non lo sta accogliendo appieno la portata di questa innovazione. Lo smart working è un cambiamento tecnologico, sicuramente, ma anche organizzativo e culturale. Il dipendente fa un passaggio culturale significativo lavorando in smart working. al dipendente viene chiesto delle risorse nuove a cui non aveva forse pensato in precedenza. È fondamentale anche il ruolo del manager. Il manager, il dirigente, deve mai lasciare solo i propri collaboratori, chi deve seguire, chi deve motivare in una modalità di lavoro nuova, diversa, che presenta una serie di opportunità, ma anche una serie di difficoltà, soprattutto per chi non ha una predisposizione innata su questa modalità di lavoro. Quindi questa è la vera scommessa. I nostri vertici hanno in più occasioni rappresentato la maniera in cui, nei diversi profili, 9.000 dipendenti INAI abbiano risposto con una capacità di adattamento davvero significativa alle nuove modalità di lavoro. E questo è anche il risultato di un percorso, un percorso di maturazione culturale che si è articolato. Lesson learned. tipicamente sempre bene, anche se si corre, nei momenti fondamentali dei percorsi di innovazione, soprattutto fermarsi un attimo, guardare dietro e fare un po' con una visione in retrospettiva, fare un po' sintesi sulle cose che sono andate bene, sulle cose che possono essere migliorate e soprattutto quali sono le best practices che possono essere anche utilizzate da altri. Intanto non si è mai abbastanza veloci. INAI ha risposto con tempestabilità e con efficacia all'emergenza, ma perché ha lavorato sull'organizzazione flessibile in questi anni. Però la capacità di reagire agli eventi imprevisti deve essere sistemica, cioè non deve essere casuale. Non è che per caso non ci siamo mostri sulla trasformazione digitale, adesso siamo pronti. L'organizzazione deve essere capace, resiliente, capace di adeguarsi agli imprevisti. Per farlo bisogna avere proprio una cultura orientata alla gestione dei rischi. Per chi, diciamo, per gli esperti di risk management sanno che il rischio è il risultato del prodotto tra la probabilità che il rischio avvenga e l'impatto negativo che il rischio comporta. Quindi è vero che il rischio dell'epidemia era molto basso, quasi nullo, ma l'impatto è devastante. Quindi il prodotto poi dopo alla fine portava un valore che giustificava la necessità di gestirlo e di prevederne le azioni di mitigazione in anticipo. prevedere soluzioni semplici, quella che presenterò tra qualche attimo è un esempio. Le soluzioni devono essere semplici perché servono nel momento in cui vengono pensate. Ho bisogno di qualche mese per realizzarle e quando le ho fatte non servono più oppure servono in termini diversi. Qui davvero dobbiamo passare dal paradigma del time to market, che ancora non è che sia del tutto acquisito, al paradigma del time to value, che dobbiamo portare delle soluzioni che creino valore, perché altrimenti saranno rapidamente abbandonate dagli utilizzatori. Quindi soluzioni semplici e immediate. Vedremo anche come la soluzione su Cloud che stiamo adottando su Plataforma ServiceNow risponde a questi requisiti. guardate indietro, ho detto prima, organizzazione flessibile che riesce anche a convertire, diciamolo sottovoce tra virgolette, ma è così, l'opportunità, i problemi, le criticità in opportunità. Non è cinismo, ma noi dobbiamo sapere che la nostra forza, la forza delle persone, delle organizzazioni, della pubblica amministrazione, è proporzionale alla profondità delle difficoltà che abbiamo superato in precedenza. Quante più difficoltà abbiamo superato, tanto più siamo forti. Quindi l'emergenza Covid sicuramente è stata ed è un acceleratore verso la trasformazione digitale. E salvaguardarsi anche uno spazio per agire sulla remotizzazione delle attività. Ad esempio, prima e fra tutte, la telemedicina, su cui ci sono dei grossi margini di innovazione ancora in essi. Come potrebbe essere il mondo dopo l'emergenza Covid? Il perdurare di condizioni di distanziamento precauzionali sicuramente per evitare il rischio di una ripartenza del contagio modificheranno non solo le nostre abitudini sociali, ma anche e soprattutto di modalità di lavoro. Lo scenario economico è sicuramente fortemente impattato dal periodo di lockdown e noi come ente che assicura il lavoro dovremo recepire i cambiamenti per dare il giusto sostegno al mondo delle imprese. Ci sarà una nuova consapevolezza su cui possono essere i rischi futuri e quindi mitigarli con una gestione adeguata del rischio. Mettere in campo nuove modalità operative, sperimentazioni di modelli innovativi anche in particolare per l'organizzazione del lavoro, consolidare tutto quello che si è prodotto in questo periodo di lockdown, capitalizzare e metabolizzare, far diventare sistemi che le innovazioni che sono state introdotte in questo periodo e poi dopo l'importanza dei dati come elemento fondamentale per avere il polso, il monitoraggio operativo, decisionale, strategico sulle azioni che si stanno intraprendendo. Allora sì, dicevo le risposte, il ripensamento delle strategie e il rafforzamento vanno sulla digitalizzazione totale, revisione e rafforzamento della gestione del rischio della sicurezza, focus su un'organizzazione flessibile, agile e trasparente, utilizzo dei dati per il governo ai vari livelli decisionali. Destrezza digitale, destrezza digitale dei dipendenti per dare il contributo al Paese a recuperare sulle competenze digitali che sono uno degli elementi dell'indice DESI, Digital Economic and Society Index, su cui l'Italia è un po' più indietro rispetto agli altri Paesi europei su cui deve recuperare. Poi dopo resilienza e affidabilità dei sistemi perché rappresentano i sistemi che consentono la telematizzazione dei servizi, rappresentano il canale principale di applicazione dei servizi. Vi mostro rapidamente una slide in prestito da Gartner che sta nel modello che stiamo un po' utilizzando per rivedere la nostra strategia, la nostra strategia IT triennale. Noi avevamo proprio prima dell'emergenza approvato il piano triennale IT 2022, adesso lo dobbiamo rivedere, per posizionarci su una delle tre possibilità. Le aziende di servizi, dopo la riapertura, stanno posizionandosi su un recupero, un mantenimento delle priorità precedentemente definite, una riduzione delle priorità precedenti in ragione di minore disponibilità finanziarie oppure una riduzione fisiologica del mercato di riferimento o addirittura reinventando nuove priorità. Se notate la freccia azzurra del reinvent parte anche prima della riapertura. Pensate alle aziende che si sono trasformate rapidamente per produrre ventilatori polmonari o mascherine o altri dispositivi. Quindi diciamo anche questa può essere un'opportunità anche per rivedere il business delle aziende. Vediamo un po' alla soluzione back to office. Adesso c'è il rientro al lavoro, bisogna gestire il rientro al lavoro seguendo le direttive sia del governo ma anche del Consiglio dei Ministri, presenza del Consiglio dei Ministri e con le regole tecniche che anche lì sta emanando. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione di riferimento è proprio la direttiva 3-2000 che gestisce un po' le modalità di rientro al lavoro. Il rientro al lavoro significa salute dei lavoratori, significa organizzazione del lavoro, significa gestione degli spazi, degli ambienti e dei dispositivi di sicurezza. Il progetto back to office che in sintesi sto presentando questa mattina si basa su questi quattro punti chiari. Sicurezza, bisogna contingentare le presenze in base ai criteri, dei criteri che sono definiti sia da parte del responsabile dell'RSPP, della prevenzione e della sicurezza, in termini di gestione degli spazi e delle interazioni personali e anche in ragione delle esigenze lavorative, cioè privilegiare la presenza delle persone e dei collaboratori in cui lavoro ha un vantaggio, ha una necessità di essere svolto in presente. Soluzioni semplici ed efficaci, questo l'ho detto anche prima, altrimenti arrivano tardi e non servono più, servono strumenti diversi. Rapidità, questa soluzione la stiamo adottando proprio in questi giorni nel nostro sito della direzione di organizzazione digitale. Sul rispetto delle distanze, negli ambienti comuni, quando si apriranno mense, ingressi, uscite, qui stiamo anche qui cercando rapidamente delle soluzioni anche con dispositivi, wearboard e con sistemi da integrare anche questi in un momento successivo alla soluzione del servizio. Quindi la soluzione, semplicità di configurazione, l'abbiamo configurata in pochi giorni, si basa su un'app mobile che è un elemento vincente perché venga adottato da parte dei dipendenti che portano il proprio telefono, è integrato ovviamente su un canale portale mobile, i dirigenti possono gestire le postazioni loro assegnate tramite il portale e poi dopo la soluzione si basa su un'app in SaaS, quindi questo qui è un elemento vincente che è un elemento vincente perché riduce al minimo le attività di installazione, di configurazione, di prole, di MSI, di MSI. In che cosa consiste la soluzione? Abbiamo importato nel sistema la mappa del nostro palazzo, piani, le stanze, le postazioni attribuite ai diversi uffici e ai vari tempi, gestiti mediante gruppi, il dirigente con uno scheduling settimanale e quindicinale, avendo a disposizione circa il 50% delle postazioni, che può assegnare con un workflow al proprio personale, che ha la possibilità di compilare attraverso l'app l'autocertificazione sanitaria per ingresso negli ambienti di lavoro, che riguarda la temperatura e i sintomi influenzali della temperatura, deve essere interiore a 37 gradi in mezzo e non deve avere sintomi influenzali, non deve aver avuto contatti con persone in quarantena positivi nei 14 giorni precedenti, e non deve provenire dall'estero. Questa autocertificazione è inserita al sistema dal dipendente, il dirigente gli attribuisce una postazione con lo scheduling e il dipendente o collaboratore esterno, perché da noi vengono sia, entrano, utilizzano i nostri ambienti sia collaboratori esterni, e i consumenti esterni che è dipendenti in AIG, accettano l'attribuzione della postazione e a questo punto possono fare ingresso nello stabile e rimanere per il tempo stabilito. Quindi questa è la prima fase che oggi facciamo su carta, cioè nel senso che noi pensiamo di rilasciare proprio nei prossimi giorni l'app già in sperimentazione presso alcuni uffici, quindi dovrebbe andare in esercizio nelle prossime ore, perché altrimenti questa attività che è prevista dalla norma deve essere gestita in altra maniera, se vuole qualcuno che prende le autocertificazioni, che verifica l'identità della persona, eccetera. Nella seconda fase integreremo questo sistema con ad esempio i sistemi di accesso e i tornelli, oppure quando sarà possibile l'utilizzo degli spazi comuni, in maniera tale da differenziare nel tempo, da dilazionare nel tempo la presenza di persone negli spazi comuni, ingressi, uscite, tornelli e anche per la distribuzione dei dispositivi come mascherine e altri guanti mascherine per la presenza nel lavoro. Quindi quali sono le funzionalità, le funzioni che questa app abilita, automatizza, una gestione disciplinata, ordinata e controllata e soprattutto monitorabile con i sistemi di monitoraggio già predefiniti, del rientro in ufficio del personale interno ed esterno. Immediata adozione, configurazione in ragioni in virtù dell'operatività della soluzione su cloud, su SaaS, e il monitoraggio, dicevo prima, ma un'opertura completa della storia dell'ingresso di un utente della sua posizione. Questo è molto utile nel caso, ad esempio, tra l'altro, di eventuale contagio nei giorni successivi rispetto alla presenza in ufficio per individuare tutti i potenziali contatti che può aver avuto il dipendente nella sua permanenza all'ufficio del lavoro. Questi di sotto sono alcuni esempi, non so quanto si riescano a vedere, anche dei sistemi di monitoraggio che la soluzione mette a disposizione. Io ho finito, mi fermo qui, do la parola ai colleghi e poi dopo ci organizzeremo anche per rispondere alle eventuali domande. Grazie. Grazie Francesco. Do la parola a Luca Zuin di ServiceNow. Allora, la presentazione dovessi già vederla. Perfetto. Mi sentite? Sì. Perfetto. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Luca Zuin, sono l'account per la pubblica amministrazione in ServiceNow. 20 secondi per descrivervi cosa fa ServiceNow e chi è ServiceNow. È una cloud platform nata nel 2003 per la digitalizzazione dei processi sia verso l'esterno che verso l'interno di un'azienda. Si pone quindi l'obiettivo di semplificare la vita lavorativa dei dipendenti, così come nel mobile ha cambiato la vita personale di ciascuno di noi. In pratica quello che cerchiamo di fare è di rendere possibile un modo diverso di lavorare sfruttando i paradigmi social, i paradigmi web e il mobile che sono comuni nella vita normale ma che nella vita aziendale difficilmente sono già entrati in utilizzo di utilizzo comune. E quindi aiutiamo nell'orchestrazione e nella gestione di questi processi e di questo passaggio i nostri clienti nella digital transformation. Siamo presenti nel marketplace della pubblica amministrazione quello voluto da Agid, abbiamo ricevuto la certificazione tra i primi ad avere avuto anche questa certificazione sia come CSP provider sia come SAS provider e abbiamo ovviamente i nostri data center in Europa. Come vanto possiamo dire che nel 2018 siamo stati dichiarati da Forbes la società più, l'azienda più innovativa al mondo davanti anche ad aziende come Netflix, Amazon e così via o Tesla che sono le aziende che probabilmente tendono maggiormente all'innovazione. Il nostro supporto alla digital transformation delle aziende ma anche della pubblica amministrazione copre a 360 gradi quelli che sono i processi aziendali o i processi di una pubblica amministrazione. Si rivolgono sia verso l'esterno con il supporto a cittadini o clienti. Pensiamo per esempio a clienti della PIA a livello mondiale che gestiscono le richieste degli accessi alle menze scolastiche piuttosto che rilascio digitale dei certificati. Proseguendo per quello che invece è tutto il mondo interno della digitalizzazione, cioè dei servizi al dipendente. In Italia abbiamo grandissimi clienti come Eni, Enel, Esa che utilizzano le nostre soluzioni per semplificare il rapporto dipendente-impresa. Penso elementi tipo la richiesta di un attestato di lavoro da consegnare per avere una particolare agevolazione piuttosto che alla verifica ferie permessi, eccetera, che normalmente risiedono nei sistemi di back-end delle aziende a cui i dipendenti hanno difficoltà di accesso. E terminando con quello che è il nostro, diciamo, chiamiamolo primo amore, cioè l'operational intelligence della parte di IT, quindi la gestione di tutto ciò che riguarda gli ambienti IT, dove recentemente Gartner per l'ennesimo anno ci ha considerato l'idea di mercato coprendo un market share che va intorno al 51%. Questa possibilità di coprire tutte le aree di innovazione all'interno di un'azienda ci ha permesso di rendere i nostri clienti rapidi ed efficaci nella gestione dei processi interni per quanto riguarda il Covid. Sin da marzo abbiamo potuto rilasciare tre app che hanno permesso di gestire in maniera semplificata quello che è il processo di fase 1, quello del lockdown e della fase di maggior contagio all'interno dei vari stati, universalmente riconosciuto questo anche dalle diverse testate giornalistiche e di settore. Cosa ci ha permesso di fare ServiceNow e di supportare i nostri clienti di ServiceNow durante la fase 1? Semplicemente gestire il processo di capire attraverso un self report da parte dei dipendenti di un'azienda o di una pubblica amministrazione o eventualmente verso l'esterno, di capire lo stato di una persona e laddove questa persona fosse risultata positiva, incrociare queste informazioni con le informazioni contenute all'interno dell'azienda, quali che potevano essere l'incrocio con gli appuntamenti avuti nelle ultime due settimane, tre settimane, piuttosto che la location dove si trova il piano e così via per determinare quello che è il livello di esposizione, con l'exposure management. Che impatto poteva avere avuto all'interno della comunità o all'interno dell'azienda quella persona in termini di trasferimento del contagio verso altri dipendenti o verso altre persone e chiudere il cerchio attraverso un invio a queste persone che potevano essere impattate attraverso l'employee check per capire che cosa è successo e come si può richiedere nuovamente il self report e ricominciare il circolo virtuoso per capire appunto come il contagio si andava propagando all'interno delle azienda, soprattutto in ambito di grandi pubbliche amministrazioni con magari sedi disparate all'interno del territorio. Se questa prima fase, come dicevamo, è arrivata a marzo e per noi è arrivata leggermente tardi rispetto a quello che poteva essere un impegno di ServiceNow qui in Italia, diversamente è stata la fase 2, perché nasce proprio da un'iniziativa italiana, quindi da una nostra idea proprio voluta qui al ServiceNow Italia, l'approccio al Retour to Work perché comunque anche se non siamo stati i primi rispetto alla Germania probabilmente ad altre aziende, siamo quelli che nel ritorno al lavoro abbiamo dovuto affrontare probabilmente più problematiche rispetto magari ad altri. Da questa iniziativa ServiceNow ha rilasciato una serie di app e di soluzioni che permettono di coprire a 360 gradi questa seconda fase, non solo in maniera temporanea, cioè relativamente solo a questa fase più o meno lunga quanto sarà, ma che poi, come diceva il dottor Colosuono prima, potrebbero diventare e essere capitalizzate per rigestire quello che potrebbe essere lo smart working di domani o le necessità dei dipendenti di domani in determinate condizioni. Lascio la parola a Mario per descriverti di più nel dettaglio quello che potrebbe essere il Retour to Work organizzato nel ServiceNow. Buongiorno a tutti, Mario Noioso, ServiceNow, Solution Consulta, faccio parte della struttura di prevendita e insieme a Luca seguo i clienti dei territori del sud Italia. Allora, vi volevo raccontare poi come è proseguito da parte di ServiceNow il supporto ai nostri clienti, ai nostri partner, ai cittadini, dalla prima fase, la fase zero, in cui abbiamo aiutato i clienti attraverso le applicazioni di SafetyCheck e SelfReport e adesso stiamo andando a indirizzare tutta una serie di scenari che accompagnano il dipendente in questa nuova fase e forniamo agli aziende gli strumenti per poter far sì che dal punto di vista del comunicativo, dal punto di vista del supporto, dal punto di vista della gestione degli spazi, delle rotazioni e delle policy che dobbiamo rispettare sia per normative centrali che per individuare intorno all'azienda, possono essere implementate, come diceva Francesco, con uno strumento semplice, immediato e che sia naturalmente sul cloud, per cui di facile, senza installare con semplici configurazioni. Il scenario precedente quindi si completa con la parte di portale degli employee che rappresenta in questo momento, mi permetto di dire, un po' la stella polare all'interno delle aziende perché in un contesto anche frammentato dal punto di vista delle informazioni e provenienti anche da fonti diverse, le aziende stanno utilizzando il portale per poter convogliare le diverse fonti di informazione all'interno di questo portale, sia in termini di campagne che possono essere fatte verso gli employee, quindi comunicazioni mirate, ma anche per poter fare delle survey e poi poter indicare quali sono gli step, le normative che devono eseguire per poter vivere in sicurezza questa nuova fase lavorativa. Inoltre il portale, come poi vedremo con un veloce insomma, può essere anche utilizzato per poter fare richieste di dispositivi personali, quali potrebbero essere gel e mascherine, oltre nella gestione di spazi comuni all'interno dell'azienda, come potrebbe essere la prontazione di uno slot all'interno del time frame in cui la mensa, ad esempio, è aperta. Lo scenario cuore cui stiamo lavorando intensamente in questi giorni è quello del return to work corretta o back to work, insomma un po' come si vuole interpretare il ritorno al lavoro, se il ritorno proprio al lavoro in senso perché si era sospeso oppure il ritorno a impostazioni workplace in termini proprio di uffici fisici. In questo caso siamo in grado con la soluzione di andare a far sì di produrre delle turnazioni in cui gli impiegati, gli employee eletti a tornare, quindi soddisfacenti i criteri di cui ci parlavo del trucco da suono in termini di salute, in termini di volontà e in termini di mansioni, possono far parte di calendari rotativi ed essere messi all'interno di uno scheduling che può essere poi settimanale, bisettimanale, deciso dalle aziende. Il punto forte di questa soluzione è l'applicazione mobile perché vedremo che in una maniera bidirezionale gli employee sono in grado sia di essere comunicati da parte dei datori di lavoro, da parte del manager o dell'addetto char della disponibilità di un posto all'interno del lavoro, in grado di selezionarsi la postazione all'interno di quello che gli è concesso e per enotarsela. Naturalmente si possono anche creare criteri più sofisticati nelle attribuzioni delle postazioni di lavoro, ad esempio delle assegnazioni basate sulle proprie mansioni, se vogliamo far tornare tutte le persone delittive, le persone del procurement, le persone di contact center. chiaramente la soluzione è molto flessibile e adattamente configurabile. Spendo due parole, prima di farlo in sonno, sulla parte del portale che a me piace chiamare la Stella Polare, il portale è il punto di riferimento in cui la modalità consumer-like perché i nostri portali, se li conoscete, strizzano l'occhio al mondo consumer a quello che può essere un portale Netflix o di Disney che peraltro è proprio il nostro e quindi cerchiamo di dare attraverso questo punto di contatto una user experience che sia pari a quella che gli utenti normali, che noi cittadini, a me stesso, insomma piace quando vado a prenotare, ad esempio, oggetti su Amazon o a vedere film su Netflix. Quindi attraverso questo il dipendente può muoversi per informazioni, per prenotazioni e per essere guidato in maniera sicura all'interno di questa fase. Tornando invece all'applicazione del Black to Work, questo è il flusso principale che poi vedremo nel lens on. Abbiamo quindi il manager oppure il proposto della parte char che inizia a configurare i workplace disponibili attraverso una semplice applicazione. quindi fa una divisione sostanzialmente degli spazi, delle stanze messe a disposizione. Ogni azienda si sta organizzando diversamente. È possibile suddividere per uffici e stanze all'interno di uffici. Alcuni clienti stanno facendo divisioni per building e per piani e dividere quindi le stanze da attribuire con un criterio di distribuzione per piano. Ma l'applicazione stessa ci consente di andare a implementare quelli che sono i criteri congeniali ai criteri che l'azienda si è dotata. Dopo la fase di creazione dei workplace disponibili c'è la fase per e proprio di plan. In questo caso l'iniziativa può partire dal manager, può partire dal proposto dell'HR ed è possibile fare attraverso l'applicazione l'assignazione dei posti. Sia in una maniera classica di applicazione di back-end di ServiceNow, applicazione diciamo in forma di lista tabellare, ma anche dal punto di vista grafico. In cui anche qui con un'esperienza molto semplice è possibile spostare barrettine di sostanzialmente di workplace di posti all'interno delle stanze sui dipendenti che vogliamo attribuire per la possibilità di tornare al lavoro. Quello che vedete qui è l'applicazione mobile, perché come dicevo in precedenza c'è una bidirezionalità in questo scenario. Quindi qui abbiamo visto che il manager proposto, il dirigente o la persona HR configura i workplace all'interno delle stanze. La seconda fase è la fase proprio di attribuzione di questi spazi che può avvenire attraverso un'applicazione di back-end di ServiceNow quindi classica in forma di lista tabellare oppure attraverso un'applicazione grafica in cui con uno spostamento appunto di barrette che in questo caso rappresentano i posti da occupare, sulle persone si fa semplicemente in maniera grafica l'attribuzione. Lo scenario può essere bidirezionale. Alcuni clienti si stanno orientando nell'attribuzione da parte dei manager delle postazioni, quindi saranno il manager diretto oppure il preposto dell'HR per il suo sottinsieme di competenza ad attribuire la postazione all'interno dell'applicazione. E quindi l'employee si ha notificato che dovrà rientrare in azienda e dovrà occupare quel posto all'interno della stanza che potrebbe essere ovviamente il suo posto naturale di occupazione precedente e in questa fase semplicemente in rotazione magari con i suoi compagni, quindi nella prossima settimana toccherà a lui, poi nelle successive dopo chiaramente le varie sanificazioni e altre norme che le aziende applicheranno tornareanno i suoi colleghi. Oppure viceversa e dall'iniziativa, naturalmente se il dipendente fa parte degli eletti e poter tornare al lavoro, attraverso l'app mobile si potrà fare un vero e proprio check-in, un po' come si fa sui treni e sull'aereo a prendere il posto all'interno delle stanze. E l'applicazione, in modo da poter continuare anche qui con l'esperienza, un po' come facciamo sui portali, è dare quel tocco di consumer experience per cui il dipendente si trova a maneggiare un'app così come fa di solito nella vita privata. Completa la soluzione, la parte di dashboarding che riassume un po' tutto lo stato di allocazione dell'azienda, quindi le stanze occupate, le persone che ancora devono poter rispondere a una chiamata di dispatching. E una cosa molto interessante, un po' come diceva il dottor Colosono prima, la possibilità di andare a prendere lo storico delle occupazioni delle stanze perché in caso di qualche dipendente dovesse segnalare un problema, un sintomo, si può ricostruire praticamente dove è stato e eventualmente con chi è stato a contatto sempre nei termini chiaramente della distanza permessa all'interno delle stanze e quindi fare un'analisi di esposizione che poi l'azienda riterrà opportuno. Allora vi faccio vedere giusto un commento tecnico prima di andare sulla piattaforma, non vorrei dare troppo lungo. L'applicazione ha tre anime, una parte naturalmente di anagrafica in cui si vanno a definire i dipendenti, i gruppi al quale si appartengono e le stanze locali, tutta la gerarchia dei building. molti dei nostri clienti hanno già chiaramente questo tipo di anagrafiche che sono le persone all'interno che utilizzano di fatto la piattaforma per altri scopi, per altri scenari, per altri use case, ma è risultato semplice in molti contesti integrarsi con gli esistenti sistemi di anagrafiche e quindi importare in questo caso le utenze e anche la parte di logistica per poter fare le assegnazioni. Questa è la parte del cuore in cui vengono definite le policy, quindi vado a fare le turnazioni. Molte aziende si stanno orientando per turni settimanali ma ciò non toglie che si possa estendere il periodo bisettimanale o addirittura anche mensili in cui le persone vengono attribuite a dei turni e vengono poi schedulate con i criteri bidirezionali che l'azienda sceglie e la parte di dashboarding. Allora io andrei velocemente al lens on così faccio vedere la piattaforma, condivido il mio schermo e dovrebbe andare tutto bene. Io vedo la condivisione, penso che la vedete anche voi. Questa è la parte finale, se ci ritorniamo, questa è chiaramente la service now così come si presenta l'interno della nostra soluzione. Quindi siamo in cloud, quindi siamo su Chrome, siamo sul web, diciamo veloce, tutto live, quindi perdonatemi se ci dovesse essere qualche interruzione di video, vedete ma non credo, e a sinistra abbiamo gli elementi che appartengono alla soluzione. questi in viola rappresentano la parte anagrafica che sono elementi di piattaforma sostanzialmente, quindi non necessariamente legati alla soluzione del back to work. abbiamo la lista dei dipendenti, naturalmente questo non è l'ambiente linea, è l'ambiente demo, quindi la lista dei dipendenti e per ogni dipendente, ora vedete nel mio caso, oltre le informazioni anagrafiche che possono essere poi utilizzate in tutti gli altri scenarii rischese che mette a disposizione la piattaforma, abbiamo informazioni eventualmente legate perfettamente al covid per poter selezionare o meno le persone nei turni di rientro, i gruppi nel quale la persona appartiene, quindi in questo caso sono una persona del secondo ufficio, e le locazioni a quale mi è concesso andare, quindi alcune stanze del secondo ufficio. Quindi ciò significa che in questa configurazione anagrafica io parteciperò ai turni rotativi del mio gruppo, cioè io e i miei colleghi del secondo ufficio, all'interno di questi locali. Gli altri elementi anagrafici sono i gruppi, come dicevo prima, quindi all'interno di ciascun gruppo, sempre queste persone del quarto ufficio, avremo sempre la lista delle persone, e l'importante è la divisione e poi anche la creazione di gruppi che gestiscono le rotazioni, perché naturalmente in aziende anche medie non bisogna andare su numeri grandi, non è veramente percepibile, ci sia un po' il bottiglio da un unico diputato alle rotazioni, ma la soluzione è pensata per poter andare a costruire gruppi manageriali proposti alla rotazione, ognuno per il suo gruppo di competenza. Quindi il manager del secondo ufficio potrà gestire tutte le rotazioni delle persone al secondo ufficio, il manager del quarto ufficio chiaramente gestirà le sue persone. Questo è fondamentale anche dal punto di vista, non solo della parola dei dati, ma anche dal punto di vista della semplicità d'uso, perché nel caso in cui il manager si connette alla propria piattaforma con il proprio profilo, naturalmente vedrà solamente la propria gestione della persona, quindi non avrà una vista semplificata nelle rotazioni. Come potete vedere qui sono anche le persone smart working, perché noi e i nostri clienti già stiamo guardando oltre, quindi adesso questa soluzione utilizzata per gestire le rotazioni in fase 2-2.1, ma in futuro per come sono i nostri insight, gli insight dei nostri clienti, sempre più persone saranno nel smart working, quindi ci sarà la possibilità di andare a capire come queste lavoreranno da remoto, anche qua in termini di slot che potranno prenotare, dichiarazioni che essi lavorano da remoto, e sempre vedremo l'uso dell'applicazione mobile per la gestione del lavoro da remoto, quindi con scenari evoluti rispetto a queste base. Non può mancare naturalmente nella parte di una grafica di spazi, che sono le stanze nel quale vorremmo fare rotazione, qui in questa demo c'erano alcune per l'ufficio secondo e alcune per l'ufficio quarto, alcuni clienti stanno estendendo anche a diversi building, quindi potremmo avere una gerarchia completa sia in termini di building appartenenti alla società e poi uffici e stanze appartenenti ai singoli building. Come vedete qui l'home office rispecchia la location dello smart working visto in precedenza, sempre in ottima futura, mentre il locale Mensa si sta usando in maniera sperimentale, come diceva Francesco il roadmap, perché sarà possibile per le persone che ritornano al lavoro utilizzare il portale per andare a prendere uno slot all'interno della Mensa. Sempre qui per rispettare i criteri, io avrò 100 posti in Mensa dei miei attuali 300, potrò dividere ad esempio in fasi diverse 12-13, 12-14, 14-15 e fino all'esaurimento le persone potranno dare indicazioni a quale orario andare a mangiare per poi rispettare i spazi all'interno. Nella parte gialla e la parte rossa c'è la vera e propria soluzione, quindi questa qui in giallo è la parte per la creazione dei criteri, è possibile utilizzare un'app molto semplice tipo questa, se ho disposto il web, in cui io posso andare a fare allocazione tipo in questa stanza qui, posso fare un certo numero di posti, ovviamente avendo informazioni sulla percentuale posso anche decidere in base a quante le workplace creare per questo spazio, indicare chi sarà il manager che farà questo tipo di gestione e per quanto tempo questa rotazione dirà. In questo caso posso fare una rotazione di 7 giorni, ovviamente ripetere la scadenza e attribuire il gruppo che potrà poi partecipare a questo tipo di rotazione. vado generalmente veloce per cercare di non sforare tantissimo, è possibile poi utilizzare dei criteri anche più sofisticati che non siano le rotazioni puntuali, che si possono utilizzare per un tipo di rotazione, in cui in un solo template possiamo andare a indicare per esempio per tutti gli uffici, per tutte le stanze del nostro ufficio, addirittura per tutti gli uffici, come sarà il tipo di rotazione. Qui c'è per esempio, ho creato diversi slot di scrivanie in un solo colpo, che poi posso utilizzare per un tipo rotativo per non fare la creazione di qualcosa che si tratta di precedenti. Per esempio in questo caso una di queste righe rappresenta uno slot all'interno della stanza e quindi semplicemente vado a crearmi un criterio per quale una volta istanziato io con un solo colpo avrò tutti i posti a disposizione. Questo è l'effetto della creazione a fronte dei criteri che avete visto in precedenza, quindi sono tutto quello che ho schedulato per la prossima settimana. Quindi per la prossima settimana io avrò a disposizione questi slot nella stanza 318, questi 312, questi 312 e quelli per l'ufficio quarto. Ho anche sperimentalmente fatto alcune postazioni di home office, perché sempre le persone con lo smartphone potrebbero comunicare di voler lavorare in casa. A questo punto c'è il video di come le aziende possono gestire questo video di allocazione. Vi faccio vedere quella che stanno adottando alcuni clienti. C'è la parte proattiva del dipendente, quindi io che sono maio maglioso, come ho visto prima, faccio parte del secondo ufficio, a fronte dell'istanziazione di questo criterio, essendo una persona letta a poter entrare, vado sul mio smartphone e sarò notificato di questa presenza. Quello che vedete qui, queste 3 applicazioni a stelle, sono 3 applicazioni in cui produce ServiceNow, una mobile per la gestione complessiva di piattaforma, un HR dedicata a scenari tipici presenti di un working, questa cosiddetta numeroide che ho denominato etan to work, che viene utilizzata proprio per lo scopo di fare il check-in e di scelsi proiettivamente una scrivania. Quindi sto utilizzando il telefono, come vedete questo sto produttando qui nel mio stream una semplice applicazione e vado a vedere tutti quelli ovviamente che ho diritto a poter venire e poterli posizionare. Posso anche vedere dove si trovano i miei colleghi, quindi se devo stare vicino a qualcuno posso scegliere questo, vado a prendermi questa 311p, la vado a selezionare. Quello che vedete qui è naturalmente tutto dove mette a disposizione l'applicazione, l'applicazione è qualcosa di più ampio rispetto al scenario, diciamo semplice scenario di back to work, quindi avremo anche fiche di digitalizzazione, nel caso semplicissimo spostare, volessimo sapere un percorso per andare da una sede all'altra e la possibilità di addirittura poi fare delle attività, perché come dicevo alcuni clienti lo stanno utilizzando per criteri smart working, quindi da l'app posso anche eventualmente legare i documenti, fare note di lavoro e comunicare qualcosa direttamente. Per lo scenario che ci compete io mi vado a scegliere la postazione e faccio una sign to me, questa mi piace, una stanza, nell'applicazione principale avrò che ho accettato la postazione in 311p. Naturalmente questa mia scelta si riflette da questo punto di vista, quindi il mio manager vedrà qui lo stato è cambiato, con vera cosa se ha accettato questo tipo di postazione. L'altro tipo di scenario viceversa, veloce, mi spiego, mi levo dall'applicazione, naturalmente in conseguenza il mobile si riflette, quindi non sono più allocato. Cosa fanno i manager? Quindi se lo scenario parte dell'altra direzione, possono utilizzare o direttamente quest'app, quindi andando a inserirmi, non più come avete visto, oppure utilizzare un'applicazione di dispatching grafica, molto semplice, in cui con the drag and drop vado a fare uno spostamento di questo tipo. Per esempio questo qui, per tutti i dipendenti a cui sono titolato ad attribuire postazioni, io sono qui, sono tra gli ultimi, ad esempio 311, me la sposto qui, faccio un aggiornamento, e quindi mi troverò l'attribuzione, da questo punto di vista attraverso l'applicazione di rapida. Completa la soluzione anche il calendario, per poter far sì che i manager dipendenti per ciascuno dei gruppi possano avere allocazione di una livea settimanale per le persone all'interno delle stanze, ovviamente il numero per le persone di propria competenza, e come dicevo prima, le dashboard. Nelle dashboard stiamo definendo stanza per stanza la percentuale occupativa, lo stato di allocazione, quelle che sono ancora pendi, quelle che sono ancora accettate, e distribuite ai nostri dipendenti, quelle che lo aggiungono con stato, e un'allocazione per piano, a quelli che stanno mettendo la possibilità di vedere piano per piano, come essi siano avvocati, per chi pensi di sicurezza, anche come al di là di quello che può essere la situazione contingente del codice, e lo studio di occupazione a stanza, chiaramente su tutte le analitiche su come sono state occupate in precedenza, ovviamente navigabili, così come consente la piattaforma, tutti i dati che sono tutti, e quindi una navigabili stanza per stanza, come si è evoluta lo stato occupativo, a seconda delle riprendenti, proprio in un'ottica di analisi e di esposizione. vado velocemente sulla parte del portale, che abbiamo visto prima, poi lascio in continuazione con altre cose, il portale è la stella polare a questo momento, e attraverso il portale, oltre ai scenari tipici che ci caratterizzano, lo stiamo anche utilizzando in alcuni scenari, per punto di vista di DPI, ma anche per notazione delle mense, in cui è possibile scegliere le fasce orarie, fare la prontazione, e poi tutto questo darà frutto naturalmente a un insieme di slot in cui sono stati occupati, per chiamare memoria storica, o anche in questo caso per la gestione dell'esposizione, perché essendo un ambiente comune, è quello che può essere di causa di rischi, per il futuro. In completo la mia presentazione, stop un attimo sharing, quindi raccogliamo le domande alla fine, solo per le ultime due cose, una che sono due cose diciamo di stampo ottimistico, di stampo molto ottimistico, una è questa, cioè il nostro knowledge, noi stiamo continuando l'attività, chiaramente non ci fermiamo, rispetto a quelli siano stati attuali fisici, abbiamo portato tutto sul digitale, siamo diventati, come dicono i miei colleghi, il Netflix della piattaforma per i Scenari IT, e non solo, quindi potete non solo vedere gli eventi live, ma andare a vedere gli eventi precedenti che riguardano, se le destinano a tutto quello che intorno, quindi clienti, partner, scenari e così via, naturalmente è tutto gratuito, tutto sulla piattaforma. E voglio chiudere, così come ha aperto Francesco, anche qui con un grande ottimismo, e cioè che andando un po' a studiare, naturalmente sono studi fatti da ricercatori e persone con più background di me, così come lo Stato, le varie pandemie, le varie condizioni disastrose, hanno sempre portate comunque nel genere umano delle innovazioni, un nuovo modo di vedere la vita, e anche con tantissimi vantaggi, in questo caso, diciamo per noi il Covid deve essere considerato anche un catalizzatore della trasformazione digitale, e quindi quelli che stiamo mostrando sono solamente gli scenari iniziali, ma siamo proiettati verso quello che ci riserverà il futuro, e noi ci saremo. A te la parola. Grazie mille Mario, se siete d'accordo ci prendiamo 5 minuti perché ho raccolto delle domande, ho visto che già Luca sta rispondendo nel pannello Q&A ad alcune domande, intanto ne faccio una per Francesco, e poi se Luca vuole rispondere direttamente anche qui, così sentono anche tutti gli altri partecipanti. Allora Francesco ci chiedono pensa che l'INAIL rimanerà a disposizione di obbligo di smart working per tutti i lavoratori del servizio pubblico che siano affetti da una malattia invalidante severissima ma senza indicazione di gravità, cioè autosufficienti? Mi occupo di tecnologie e di organizzazione. Questa domanda, anche per essere certo di dare una risposta corretta, la condivido con i colleghi. Purtroppo Francesco ci si blocca. Ok, passo magari alla domanda che avevo per voi Mario, e poi dopo riprendiamo Francesco. Allora, visto che Luca stava rispondendo già alla domanda in quale PIA sono già state utilizzate queste app? La cosa lascio a Luca che il… Sì, vediamo se… Vabbè, Francesco ha anticipato il fatto che le app attualmente sono in via di utilizzo alla divisione IT, sia al dipartimento IT della DCOD di INAIL e in base alla fine della sperimentazione andranno in esercizio nell'istituto, mentre per quanto riguarda altre pubbliche amministrazioni abbiamo fatto vedere la soluzione a Invitalia che è interessata… e poi sono delle altre pubbliche aziende, non pubbliche amministrazioni come Acea per esempio… Scusami, magari anche tu la videocamera così non… Ok, ok. Ho sentito comunque fondamentalmente INAIL e Invitalia, per semplificare con Invitalia stiamo discutendo come introdurre la soluzione, la stanno valutando. Poi ci sono altre aziende che non sono direttamente pubbliche amministrazioni che hanno acquisito la soluzione come Acea e altri. Questo in Italia ovviamente, poi se parliamo di pubbliche amministrazioni a livello mondiale ce ne abbiamo diverse che per ovvi motivi magari non posso menzionare in quanto non abbiamo l'autorizzazione a farlo da questo punto di vista. Ok, vi faccio un'altra domanda. La domanda è come viene gestita e catturata l'informazione di un eventuale contagio di un dipendente? Quanto è richiesto il conveggimento dei dipendenti per l'acquisizione delle informazioni di contagio e quanto queste sono acquisite in automatico? Ok, allora per quanto riguarda questo molto dipende dall'organizzazione che si è dotata, dalle informazioni… quindi ci sono aziende che si sono attrezzate a livello… che davanti all'ingresso hanno i termoscanner e quindi valutano l'impatto che può avere e rimandano indietro il dipendente. In ogni caso, da quello che sappiamo noi, il protocollo prevede che sia il dipendente a comunicare di essere affetto da Covid in maniera confidenziale ovviamente, non in maniera pubblica o così via, e che l'azienda attraverso la soluzione può determinare quelle che sono la lista dei possibili contatti da comunicare alle ASL per determinare che siano avvisati perché debbano magari sostare in quarantena o cose del genere. E dall'altra parte l'azienda può metterli in out of office per evitare che possano anche loro entrare in ufficio. Ok, e Francesco se vuoi finire di rispondere alla tua domanda di prima, poi magari avvio la sessione di pratica così potete continuare a rispondere alle domande delle persone che vedo che molti ci stanno salutando in chat e che devono andare via. Francesco? Non so fino a che punto si è sentita la mia risposta. Dicevo, io mi occupo di organizzazioni digitali quindi questa domanda che è puntuale merite una risposta anche precisa. La giro ai colleghi così posso fornire una risposta. Perfetto. Io a questo punto ringrazio tutti i partecipanti e vi ricordo che i materiali saranno messi online sul nostro sito nei prossimi giorni. Ringrazio i relatori Mario Noioso, Luca Zuini e Francesco Colasuanno e ServiceNow per la collaborazione e gli spunti offerti oggi. Adesso avvio la sessione di pratica così i relatori possono continuare a rispondere alle vostre domande. Grazie mille e buona giornata. Buona giornata. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.